La banca centrale svedese abbassa il costo del denaro per la prima volta dal 2009, una mossa che potrebbe segnare tutto il prossimo anno. La misura vuole reagire alla crisi del debito nell'area euro, che sta indebolendo anche le economie dei paesi scandinavi. Il taglio effettuato è di un quarto di punto e porta il tasso di interesse all'1,75%. La corona recupera su dollaro e euro.